Asura's Wrath Per quanto sia durato poco sia la fase Street Fighter che lo scontro vero e proprio sono stati abbastanza complessi devo dire Quindi andiamo avanti e partiamo con il Kanda numero 2, il più forte contro il più arrabbiato Dopo il suo scontro con Ryu, Asura viene sfidato da Akuma, il lottatore alla ricerca del primato supremo Si scontrano in una battaglia feroce che li porta entrambi a trasformarsi Akuma in Oni e Asura in Mantra Asura Nessuno sa fino a dove saranno capaci di spingersi contro ogni limite umano Scopriamolo Grazie di averci ridetto che le voci sono in giapponese Guardalo com'è bello incazzato Ti abbiamo qui Le tue abilità promettono bene L'eterno sfidante Akuma Bella la voce Sempre bella con la giapponese di Akuma Quella di Asura preferisco quella in inglese Aia Ma spostarti Asura no? Calcio del vento Calcio del vento Non male Akuma Non male Peccato che mi hai anticipato che ti trasformerai Il che preferivo non saperlo Non per altro ma perché volevo la sorpresa piuttosto Sei forte Bello Hai uno spirito che è assetato di battaglia Il tuo nome Asura Soddisfa la mia fame di potere Dio dell'ira Non chiamarmi Dio Semi Dio Ti sfido allora Sono pronto Di nuovo la fase street fighter Ti prego Ma come faccio a bloccare? Ma che cazzo Ma i suoi sono più forti I suoi proiettili sono più forti dei miei Non è giusto questa cosa Wow Vieni Oh no Troppo tardi Ma i suoi pugni I suoi pugni di fuoco Sono più forti dei miei Uffa Dai Con un colpo speciale Finiamo Lo spedetto numero uno Quello in fase street fighter Voglio vedere adesso Quello normale Ma poi perché sempre al set dopo tre secondi? Vorrei riuscire ad attivare la foglia Aia Aia Qua sta pensando a fare male Dai Ma non c'è abbastanza tempo però Eh va bene Stavolta la furia Riesco ad attivarla però Troppo presto Peccato Eh no Sono abbastanza incazzato anch'io Cosa credi Akuma? Di essere l'unico Che è abbastanza forte A tirare dei cazzottoni? Non credo proprio Forza allora Kakatekui Mostrami tutto quello che hai Wow Distruttore del paradiso Beh si è un Oni È proprio un Oni Un demone del tuono Bello Mi piace Assolutamente Puoi vivere senza anche questo contenuto DLC Ma visto che c'era ho detto Fa un culo lo prendo Già che stavo prendendo anche l'altro DLC Cosa facevo? Lasciavo questo da parte E ha rialzato di nuovo la luna Perché no? Apriamo le braccia È un contenuto totalmente a parte Nel senso è fanservice come avevo già detto È un orco guardalo Perché questo è il momento del mantra Volendola vedere in un altro punto di vista Questo contenuto può essere preso nel finale del gioco base Forse Quello in cui effettivamente salviamo mitra e basta Senza dover fare il DLC Se ci pensi Perché torniamo sulla luna Ed è tutto normale Noi il nostro mantra così l'abbiamo ottenuto Anche No Devo smettere di fare l'attacco dall'alto Ma perché riescono? Guardalo Dai Avevo attivato il triangolo Non ho fatto in tempo Devo riuscire Ad attivare di nuovo il L2 Dai Avvicina Forza Così ti devasto un pochino No E dai Si è allontanato Che spalle Wow Non me lo aspettavo Che glielo rimandassimo indietro Lo ammetto Lo ammetto che questo è stato figo Dai Ero troppo vicino Sia lui che Ryu Riescono a bloccarmi il mio attacco Questo qua sotto Ma soprattutto quello dall'alto Il che Mi rovina parecchie conto Però finché riesco a farlo Qualche danno in più Te lo posso fare Oh oh Vediamo di non sbagliare qua Ma come? Ma scusami Ma l'ho fatto in tempo io Forse era per prendere molti meno danni Devo smettere questo colpo Devo smettere con quel colpo lì Devo puntare tutto sui contrattacchi Perché qua Ci sto per crepare Ci sto per crepare male Com'è possibile? Forse siamo finiti in pareggio qua Però Non posso sperare Per sempre Di sopravvivere qua Devo riuscire a finirlo ora Non è ancora finita Cacchio No Non ti concederò il russo Di un attacco Mi dispiace Ma la furia finalmente È arrivata Vedi di prenderlo Perfetto Wow Interessante lo scontro Comunque Di nuovo che cadiamo dalla luna Non dirmi di nuovo questa scena Perché Sarebbe l'ennesima volta Asura Veramente Canonicamente Questo scontro potrebbe veramente Essere Col finale originale Del gioco Quello in cui salviamo Mitra e basta Comunque Akuma è forte Se ci sta tenendo testa Noi che abbiamo Sconfitto Vlitra In questa forma Soprattutto Oh Ma guarda un po' Che sfiga La luna è andata Qua adesso Non c'è più combattimento È tutto quick time event Adesso Ma la luna Avrà del magma All'interno O sarà morta Completamente Beh Per come Stanno facendo vedere Mi sa che ce n'è Ce n'è Ce n'è Ce n'è Guarda Goku Super Saiyan God Contro Virus Gli stessi colori Tra l'altro Rosso Contro Viola Schiviamo Tutto Perché Voglio farlo Perfetto Voglio riuscire Ad arrivare A S Bello Mi piace Mi piace C'è Si potrebbe Benissimo Stare senza Questo contenuto Sono degli extra In più Per farti giocare Ancora un po' Però Ci sta Bello Per carità Di nuovo Noi che cadiamo Sulla terra Dalla luna Non è neanche Una novità Ormai La cosa Guardali Guardali Che incazzati Totali La gente dice Oh ma ancora Che Tutto sto casino Boh La gente Chissà cosa Pensa Quadrato Quadrato Adesso Dovrò schiacciare Ancora quadrato Bello Cos'è Un flashback Ma perché Ti continui a Staccare Tu Nei momenti Cruciali Soprattutto 500 Anni Più Tardi Vabbè Vabbè 500 In realtà Se ci pensi Sono anche Pochi Ci siamo Pietrificati Dallo sforzo Addirittura Addirittura Con il muschio Si è diventati Delle statue Bello L'uccellino Cioè Abbiamo Abbiamo Consumato Tutta L'energia Insomma Anche da Pietrificati To be continued Mi sa tanto Di no Mi sa Tanto Di no Vediamo B Ma perché S Ancora S È sempre O In tutti DLC L'unica Cosa Che mi Ha fregato Totalmente Stato Sempre Il tempo In questi Due DLC E in Quello Finale La battaglia Bene o male Si svolge Sempre Sulla A In su Ma Al tempo Dio mio Signori Grazie a tutti Per aver seguito Questa serie Veramente Veramente Sto gioco Ne è valsa Ne è valsa Proprio la pena Di essere Rispolverato E sono contento Di avergli dato Uno La mia partita E due Di avervi dato A voi la possibilità Di poterlo Rivedere Signori Grazie a tutti Per aver seguito Anche questa serie Noi ci vediamo A una prossima Serie Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Vi ricordo che in descrizione C'è il link Per vedermi Sul sito Viola Signori Alla prossima Serie Ciao Alla prossima Alla prossima